E' stato un sindaco di Milano molto amato, ma ha deciso di non fare il bis, però non ha abbandonato l'impegno civico, la politica e infatti sta per presentare a Roma la sua nuova formazione. Buongiorno a Giuliano Pisapia, come sta? Buongiorno a tutti, bene, bene, bene. Trovate Roma soleggiata, calda, piacevole e Repubblica. A parte il tempo, il meteo, a parte tutti questi eventi atmosferici? Personalmente un po' preoccupato di quello che sta succedendo nel paese e soprattutto all'interno della sinistra e del centro-sinistra. E' proprio per questo continuo il mio impegno nel tentativo di unire per quanto possibile tutto quel mondo di sinistra, di centro-sinistra, ecologista, civico, che vuole riprendere un percorso di buona politica che sia capace di fare passi avanti rispetto alla situazione difficile del paese, ma anche con un linguaggio diverso e con una modalità diversa di fare politica. Un passo indietro, perdonatemi. Ciao Massimo Giannini, non ti ho salutato. Non mi sono offeso. Comunque siamo sempre insieme. Stiamo parlando di campo progressista. Questa è la formazione, diciamo, che va tenuta a battesimo sabato a Roma, in un teatro che evoca qualcosa, il teatro Brancaccio. Ci fu Lulivoli, ci fu Prodi e quindi diciamo che c'è un passato che ci ispira. Ma che cos'è nella sua testa, prima di ogni altra cosa, campo progressista? Non è un partito? No, non è un partito e non vuole neppure diventare un partito, perché sarebbe un po' contrario al mio modo e al modo di coloro che mi circondano, che sono vicino a me, di fare politica. Non perché non crediamo nei partiti, ma perché i partiti oggi non hanno quella pilla. Mi sembra che le ultime valutazioni, sondaggisti che dicono che i partiti hanno un livello di fiducia del 3%. Chi fa parte di un partito deve fare tutto per valorizzarlo, per rendere il partito veramente aperto. Io credo invece che il campo progressista può avere e vuole avere un compito diverso. E cioè di riaggregare tutte quelle realtà che ci sono in giro per il paese, nei piccoli e grandi comuni, nelle piccole e grandi città, che sorgono spontaneamente e che non hanno una casa, cioè non si sentono rappresentati dei partiti, credono fortemente in un centro-sinistra ampio, aperto, disponibile a confrontarsi con tutti, chiaramente mettendo alcuni paletti evidenti a destra o in chi si posiziona di essere sempre contro tutto, lavorando in maniera propositiva. Tutto è venuto, direi per caso. Io ho finito di fare sindaco, pensavo, sono ritornato a fare l'avvocato, pensavo di impegnarmi più ancora per la mia città, ma ho passato luglio, agosto e poi ancora adesso novembre e dicembre a girare l'Italia da solo, talvolta accompagnato anche da mia moglie, che in questi momenti è per me molto preziosa, andando a parlare, a discutere, a confrontarmi con tutte quelle realtà che potevano essere sindaci, amministratori o centri culturali che mi avevano chiesto un incontro in questi cinque anni. In questi cinque anni da sindaco il mio impegno è stato totalitario per Milano e su Milano e allora ho... E ha verificato che c'è una grande risposta rispetto a questa situazione. Una risposta e un bisogno, una richiesta, una richiesta di unità, un bisogno e anche, credo, quello che mi ha fatto molto piacere, una volontà di confrontarsi con chi, non da solo, ma con tante altre persone, ha avuto la responsabilità di governare e quindi ha dimostrato di saper governare, e credo, non dovrei dirlo io, ma lo dicono un po' tutti, bene, una grande città, mettendo insieme i diritti civili, i diritti sociali, sviluppo, attenzione più deboli, ma anche innovazione e inclusione. Senta, lo ricordava Laura, il Brancaccio è uno dei luoghi simbolo dell'Ulivo, no? Lei, intanto le faccio subito questa domanda, poi voglio capire meglio qual è il ruolo del campo progressista rispetto al Partito Democratico, ma in queste settimane abbiamo sentito più volte dire al centro-sinistra servirebbe un nuovo Prodi, dando per scontato che Matteo Renzi non è il nuovo Prodi perché non è riuscito a tenere compatto il Partito Democratico, quindi appare difficile che possa essere un grande federatore di tutto il centro-sinistra ormai frastagliato, pericolosamente polverizzato. Direi, lei è il nuovo Prodi, si sente il nuovo Prodi, potrebbe essere lei, indipendentemente da come andrà adesso la vicenda del Congresso del Partito Democratico, l'uomo che può rifederare questo centro-sinistra adesso così diviso e magari candidarsi alle primarie da Premier nel momento in cui si andrà alle elezioni anticipate oppure la scatenza naturale. Stimo moltissimo Romano Prodi che peraltro anche recentemente pubblicamente ha mostrato stima, affetto e di credere anche nel progetto che sto facendo, chiaramente senza prendere posizione. Però la situazione è profondamente diversa perché io mi ricordo perfettamente come è nato Lulivo, è nato dall'alto, c'erano i partiti che erano molto forti, che avevano un grande seguito e a un certo punto questi partiti, i segretari, i dirigenti, senza neppure una consultazione con la base, hanno deciso di dare in mano il loro patrimonio umano, politico a Prodi che era la persona che riusciva a unire. Con una fusione fredda si disse all'epoca un po', no? Chiaramente con una persona però che aveva la fiducia e che sapeva niente. Oggi invece ci troviamo nei partiti liquidi, tanti litiganti, astiosi tra di loro con tutto l'apprezzamento invece di tante persone che sono impegnate. Allora io credo che il percorso per arrivare allo stesso obiettivo, cioè quello di riunire e di allargare, sia quello di partire, si dice sempre dalla base. Partire però da realtà esistenti che hanno avuto la capacità in questi anni di resistere uniti, mettendo insieme persone con provenienze diverse, con storie diverse che venivano dai partiti di sinistra, dal partito democratico o come si chiamava prima la sinistra democratica, il civismo, l'associazionismo laico e cattolico e ho visto che ci sono tante di queste realtà. Allora la mia idea è quella di mettere in rete, far unire, far lavorare insieme attraverso degli strumenti che noi metteremo a disposizione, degli spazi, queste persone per far nascere un programma che non è il programma della coalizione, un programma, questo è importante, non di sogni, perché il libro dei sogni è molto bello, ma poi crea disillusioni di realtà, di pratiche e per questo gli amministratori di piccole e grandi comuni sono fondamentali, perché ogni giorno si confrontano con i bisogni delle persone e devono dare delle risposte, le devono dare in maniera immediata e poi di mettere a disposizione questa forza, questa realtà, questo sogno, questa speranza, io parlo di speranza, forse è più di un sogno, ma deve diventare realtà e sabato vedremo anche il primo incontro a livello nazionale a disposizione per unire tutti quelli che sono i bisogni, però l'obiettivo è lo stesso, rifare lo stesso tipo di centrosinistra con lo stesso perimetro politico più o meno, l'obiettivo è sempre quello, però aggiungo un'ultima cosa, poi Laura vai tu, Campo Progressista ha avuto al suo battesimo tra i primi critici quelli con i quali ora si dovrebbe auspicabilmente confrontare, un pezzo dei fuoriusciti del Partito Democratico, Bersani peraltro mi risulta che sabato sarà al brancaccio con voi, D'Alema, Speranza, quella parte di sinistra che è uscita dal PD, che come pure l'ala invece ex di fondazione, Vendo, la sinistra della libertà, dice però il progetto di Pisapia ha un difetto di base, perché nasce già dall'inizio, già dalla sua fondazione come una sorta di stampella per Matteo Renzi, allora per il PD di Matteo Renzi, allora quello non è un progetto politico, ma è una cosa un po' diversa, è così, cosa risponde a questa non sono mai stato stampella di niente, di nessuno, chi mi conosce lo sa, ho sempre fatto le mie scelte politiche e personali, anche penso controcorrente, se volessi fare la stampella di qualcuno entrerei nel partito, invece io voglio federare, ma non dal punto di vista giuridico, federare nel senso di mettermi insieme queste realtà che io sono convinto, soprattutto a livello di popolo del PD, popolo del centro-sinistra, popolo attento, persone attente all'ecologia, i temi che abbiamo detto, sono convinto, ma perché lo verifico tutti i giorni, poi potrei raccontare quello che mi è successo l'altro giorno in Sicilia, veramente mi ha tirato sul morale dopo una settimana in cui il morale era molto basso per le scissioni, per i litigi e ho scoperto che c'è questa grande forza che secondo me se messa insieme e se dimostrerà di essere veramente presente in tutta Italia, costringerà non con la forza, ma con il convincimento delle idee, delle proposte, della presenza, dell'impegno personale queste forze a mettersi insieme, altrimenti l'alternativa è regalare il Paese alla destra o ai 5 stelle, perché sono ottimista? Perché è vero che ci sono visioni diverse, però sono convinto che con Nicchi Vendola, con cui oggi mi divide, ho fatto tanta stata insieme e oggi mi divide la visione politica del momento, piuttosto che con altri del Partito Democratico, però abbiamo gli stessi valori, abbiamo gli stessi principi, allora i valori sono gli stessi, crediamo in percorsi diversi, io sono convinto che se entra un nuovo centrosinistra il Paese sarà abbandonato alla destra e quindi ancora a Berlusconi o a Salvini o ai 5 stelle, io questo l'ultimo, l'ho detto più volte, ho la mia età, avevo deciso di mettermi a disposizione di un tentativo unitario, è quello che sto facendo, quello che mi fa piacere è che tante altre persone lo stanno facendo, sconosciuti, ma presenti sul territorio, conosciuti sul territorio, forse non a livello nazionale, io voglio che emergano quelle immagini, quelle figure, quelle donne e quei uomini. Sabato al Brancaccio ci sarà, è convalescente, ma dovrebbe esserci anche la Presidente della Camera, Laura Boldrini, giusto? Ci sarà anche Nicola Zingaretti, giusto? Il Governatore del Lazio, come ha vissuto, visto che la sua ambizione e il suo sogno è di unire il centrosinistra, di ritrovarlo, come ha vissuto la spaccatura, la scissione nel Partito Democratico? Però già il fatto che ci siano presenti la Boldrini, esponenti del nuovo gruppo parlamentare, esponenti persone che non hanno presenza sindacale di associazione, è già secondo me un piccolo, piccolissimo embrione di nuovo centrosinistra, chiaramente è un dibattito, è un momento, però già l'attenzione vuole dire che si è compreso quantomeno l'obiettivo, poi so benissimo che è complicato. Come ha preso la scissione? Beh, l'obiettivo è stato un… pensavo, ho visto che molti di quelli che hanno fatto la scissione avevano detto che non si sarebbero mai fatti buttare fuori dal Partito Democratico neppure con il carri armato, però capisco, e qua la mia esperienza professionale me l'ha insegnato, ma invitiamola in politica, che uno deve fare di tutto, le divisioni sono sempre delle sconfitte, le divisioni tra persone che hanno fatto percorsi comuni, mentre le differenze di opinione secondo me sono delle grandi riccheche, il pluralismo è una cosa fondamentale in un partito, in un movimento, in un qualsiasi sfida, però se a un certo punto stare insieme è impossibile, ma qualsiasi persona seria dice dividetevi senza litigare per possibile e però poi, visto che avete gli stessi obiettivi, pur con percorsi diversi, cercate di quantomeno dialogare, quantomeno confrontarmi, trovare il punto di mediazione nobile e alta rispetto ai problemi del paese che tutti conoscono e che tutti più o meno viviamo e questo può essere il compito che il campo progressista può avere e che io vedo, far vedere che in ogni comune, in ogni città, in ogni luogo è nato un piccolo nuovo centrosinistra, non dico un piccolo libro, un piccolo campo che si allarga e che si mette a disposizione per trovare, direi non vorrei essere supponenti, per offrire delle proposte che siano mediazione e che possono trovare, aiutare a far riprendere il dialogo tra persone che non si parlano. Perché non è il suo partito, però rispetto al disegno che ha campo progressista, qual è secondo lei il leader più funzionale rispetto a questo disegno tra i tre candidati in campo per le primarie del PD? Matteo Renzi, Andrea Orlando, Michele Emiliano. Io sono convinto che al momento Renzi ha ancora all'interno del partito una maggioranza, vedo a differenza del passato, delle ultime primarie che oggi è contendibile, infatti uno degli elementi di riflessione che faccio è che probabilmente se non ti fosse stata la scissione la contendibilità del segretario rispetto alle primarie per il segretario del partito sarebbe stata molto più forte, soprattutto perché è uscito contro Renzi. Io personalmente poi non voglio entrare veramente nelle dinamiche di partiti con cui dialogo, con cui mi confronto, ricevo telefonate un po' da tutti. Sicuramente l'importante è che siano primarie non decise prima e per questo, anche questo non riesco a capire perché tra i contendenti, chiaramente ci sono state un po' di cose che mi hanno colpito, il fatto che Emiliano prima avesse deciso di uscire, poi partecipa alle primarie dovrebbe un po' spiegarci perché questa è scelta, però chiaramente non do un giudizio sulle primarie, dico che possono essere e diventare primarie vere in cui il vincitore non è scontato per nulla e secondo me quello che si sta muovendo va in questa direzione, a che serve a tutti, serve a tutti perché se ci sono primarie vere al fine il risultato viene accettato da tutto il partito, c'è molto disincanto, noi ieri abbiamo pubblicato sul nostro sito un sondaggio Demopolis che diceva che se si votasse oggi per le primarie, e si voterà tra poco, andrebbero alle urne la metà degli elettori che votarono alle urne, un segnale abbastanza amaro, ma che fa parte di un contesto a molto amaro, è chiaro che finché il dibattito verte su questioni giudiziarie, anziché politiche, lasciamo ai magistrati fare il loro compito, verte su ripicche che riguardano il passato, su insulti o se invece diventa un confronto programmatico, e cioè il PD da che parte deve guardare, dove stare a stare, dove cercare l'alleante, quella è una bella battaglia politica che secondo me è entusiasmo, perché sono convinto che gli eletti, gli iscritti e gli elettori del PD e le persone che si propongono a votare il PD, che sono sicuramente lì, se di fronte a questa scelta, che deve essere un po' la scelta che viene indicata nel programma dai candidati, vuole fare un nuovo centro-sinistra, quelle persone non dico che raddoppiano, ma sicuramente aumentano, ma lo sento in giro. Orlando vuole unire, vuole riflettere, vuole dialogare, vuole trovare la passione che è mancata forse in questi ultimi anni dentro il PD di riconnettersi con i cittadini, con quelli che poi diventano elettori, sono concetti che mi sembra possano considerarsi affini al suo progetto. Stimo moltissimo Orlando, secondo me è stato un buon Ministro della Giustizia, in un momento difficile anche per la giustizia, è riuscito a fare passi avanti, a far approvare provvedimenti positivi che si aspettavano da anni, da decenni, alcuni di questi, mi ricordo quando ho presso tutto la Commissione Ministeriale per la Informa di Codice Penale, quindi parlo del 2007-2008 e trovavano alcune delle riforme fatte, trovavano una divisione dagli Avvocati ai Magistrati ai cittadini e per loro nessuno l'aveva fatto, lui è riuscito con tenacia a portarlo avanti, ha un dialogo chiaramente però positivo e propositivo con l'Avvocatura e con la Magistratura, chiaramente con le differenze e le polemiche che sempre la giustizia porta, però mi sembra che ha una capacità di mostrare qualche cosa di nuovo più unitario e più aperto rispetto alle prospettive, però è chiaro che finché non vengono fuori e non emergono e questo è proprio un invito che farei ai tre candidati, anziché di spararsi addosso, cosa che Orlando non fa… Emiliano un po' di più, tra Emiliano e Renzi se le suonano serenamente… Sì, hanno proprio secondo me un carattere diverso, lo conosco tutti e due, il dibattito riprende e a questo punto, l'ho detto prima, è molto importante, sono convinto che gli elettori del PD quando hanno di fronte una scelta politica con un progetto politico vanno a scegliere chi sarà il loro segretario sulla base di quel progetto. Renzi secondo lei è ancora capace di interpretare questo tempo? Beh, Renzi è una persona sicuramente intelligente, ha preso una botta che non si aspettava, forse quello che… ha subito ammesso gli errori, forse era utile per lui ragionare anche su cosa aveva determinato questi errori e che secondo me la cosa fondamentale è stata la mancanza di confronto, non tanto e non solo con i corpi intermedi, ma anche proprio andare nelle sezioni… Questo prima ancora del referendum… Sì, sì, ecco perché io sono contrario allo statuto del PD che il Presidente del Consiglio sia anche segretario del partito, è vero che succede in quasi tutta Europa, ma è diversa l'Italia, non è che doveva copiare sempre il bene o il male di altri paesi, chi fa il Presidente del Consiglio non ha né la possibilità nel tempo di girare i circoli, di andare ad ascoltare le associazioni, di confronto, ha un compito diverso e quindi il partito secondo me si è sentito abbandonato, c'è stata molto fiducia all'interno del partito nei suoi confronti, questa sicuramente è calata, c'è molto dubbio, un po' è lo scontro confronto, scontro confronto politico sui temi e soprattutto sulla direzione che deve prendere il partito democratico è fondamentale, perché lo dico apertamente, un centro sinistra nuovo al cui interno non ci sia, senza nessun livello di egemonia, ma non partecipi anche il PD che il partito non avrebbe senso, sarebbero tanti partitini che poi non servirebbero, finirebbero solo per litigare tra di loro. Senta, poi c'è qualche domanda da farti, io al volo però approfitto, perché lei ha fatto prima un cenno molto di passaggio dicendo giustamente lasciamo che la magistratura fosse il suo lavoro, però le chiedo una valutazione politica sul cosiddetto scandalo Consip, rispetto al quale due questioni fondamentali sulle quali vorrei una sua opinione, Renzi ha spiegato quello che doveva spiegare, c'è qualcosa da dire in più, da chiarire in più rispetto a quello che abbiamo ridefinito il giglio magico, questo intreccio, groviglio di interessi dove ci sono affari, politica, parentele, babbi etc., e poi dentro il governo la posizione di Luca Lotti, altro Ministro plenipotenziario di Renzi, che rispetto a questa inchiesta qualche cosa probabilmente da chiarire a sua volta ce l'ha, prima ancora della mozione di sfiducia che sarà discusa la settimana prossima. Cosa sappia Renzi, posso immaginare cosa sappia Lotti e cosa sappia non pazza di Renzi, io sono sempre stato dell'idea, non è solo un discorso di principio, di garantismo, personalmente l'iscrizione a registri indagati spesso è un atto obbligato, quindi non significa grande colpevolezza e tantomeno eliminazione della presunzione di innocenza, però dal punto di vista politico io personalmente ho dato le dimissioni tre volte nella mia vita, quando si è rotto il governo Prodi per il voto del fondatore comunista mi sono dimesso da Presidente della Commissione di Giustizia della Camera, quando come Presidente della Commissione Carcere della Camera ho visto che il Ministro, allora il Ministro Castelli faceva l'esattamente opposto, non è che dovesse fare il nostro programma, ma neanche non talmente delle proposte anche più facili e ragionevoli e a questo punto mi sono dimesso, ho deciso di non rifare il Sindaco di Milano malgrado, allora secondo me queste sono scelte personali, io faccio un ragionamento proprio per le persone con cui parlo normalmente in strada, chi sa la verità sono i diretti interessati in questo momento, la magistratura deve fare le sue indagini, nessuno cerchi di sviare le indagini della magistratura e allora finché non c'è quantomeno un elemento determinante, più che una sentenza di primo grado che limita la presunzione di non colpevolezza, perché c'è questa cosa che pochi dimenticano, mentre le convenzioni internazionali parlano di presunzione di innocenza, la nostra Costituzione parla di presunzione di non colpevolezza, che della lettura dei Costituenti fa dire che via via la presunzione di innocenza a seconda del grado diventa presunzione di non colpevolezza, che è una piccola differenza ma non è solo te, allora io credo che se le persone sono serie, credono nella buona politica, solo loro possono decidere, se hanno fatto qualche cosa di negativo, si mettano da parte, si mettono da parte perché per il bene non tanto loro, anche loro secondo me, ma per il bene della comunità in cui credono, della politica in cui credono, se non l'hanno fatto no, però io non mi metto a dare un giudizio, io dico faccio un ragionamento, un esame di coscienza, se voi ritenete di aver fatto qualche cosa di errato, fatelo per il bene della politica e del futuro del Paese, se invece non l'avete fatto è giusto che non vengano poi penalizzati o strumentalizzate vicende giudiziarie che sono ancora in base di indagini. E quindi più che mai anche la D.D. Consip deve stare lì dov'è, continuare a fare il suo lavoro, non c'è un motivo per cui… Guarda, Consip ci sono dette molte cose, io lo conosco più cosa fosse, fin quando ho fatto il sindaco, ha permesso di evitare tantissimi bandi in ogni paese, ogni comune, i grandi piccoli potevano fare dei bandi, in quanto c'erano dei bandi che permettevano, infatti a livello nazionale, permettevano un risparmio e anche una garanzia sul prodotto, un risparmio significativo e anche una garanzia che il prodotto fosse. E' chiaro che l'idea era un'idea secondo me eccezionale, l'idea eccezionale, salvo per le grandi città, ma soprattutto per i piccoli e medi comune, se c'è del marcio lì dentro si intervenga subito, però io non ho elementi nei rapporti che ho avuto con la Consip, non ho mai avuto elementi che mi potessero… come sindaco, quindi parlo di anni fa, non ho mai avuto elementi per pensare che si portasse in una direzione o nell'altra. Una domanda di un lettore, Enzo, perché la sinistra italiana non è più attenta alla questione morale, è una sinistra senza visione etica? Può definirsi quindi tale sinistra? La prima cosa in cui credo è proprio il ritornare all'etica di chi fa politica per passione, per impegno e non come professione. Ci vuole poco a evitare i piccoli o grandi privilegi che hanno… c'è chi ha certi ruoli. Noi a Milano l'abbiamo fatto, noi a Milano l'abbiamo fatto, i miei assessori, io andavamo in bicicletta, andavamo in tram, i biglietti prima della scala non venivano più date agli amici di… Voi non voli di Stato, jet, supersonici, niente di tutto questo? Salvo le cose istituzionali, per cui avevo a disposizione una macchina ibrida regalata… L'aereo in blu l'aereo… No, no, e viaggio come tutti sanno e molti si meravigliano senza scorta, ma non perché la scorta non sia necessaria, in molti casi è assolutamente necessaria, in altri casi è addirittura per legge dovuta, però ho visto anche persone che hanno… Ne hanno fatto qualche abuso, hanno abusato, e questi sono segnali importanti, perché se i cittadini ti vedono in aereo, sei come ero oggi al 27esimo posto, o se ti vedono a girare per strada, ti fermano, anche quelle che ti vogliono criticare, ma ti fermano dicendo vabbè, io voglio dire, non offendendo, poi capisco che chi ha un ruolo importante, però vedo del Rio che va in giro con il bicicletta anche a Roma, è una cosa molto bella. Al Fano no, però del Rio sì, per questo forse che io voglio, non sulle persone, voglio però dei paletti rispetto alla coalizione che mi faccia, i paletti erano importanti infatti, quali sono questi paletti? A destra e a sinistra? Beh, a destra, la destra è incompatibile con la sinistra e con il centro sinistra, Al Fano è incompatibile? Non come persone, no, no, certo, parliamo di… Per me è del tutto evidente, chi è a destra, è vero che poi ci sono i momenti in cui uno cambia idea, però stare attenti se cambia idea per poter fare delle cose o se cambia idea veramente, diciamo Al Fano ha una storia che io rispetto, ha delle idee politiche esattamente diverse delle mie, pensi solo sui diritti civili, ma non solo, o sulla giustizia, probabilmente ci divideremo il giorno dopo, quindi è anche un problema di logica, quindi destra non c'entra con noi e la destra faccia la destra, noi facciamo il senso. Al Fano in poi, tutto quello che c'è a destra di Al Fano, Verdini va bene? Non lo conosco, ma credo che non vada proprio bene rispetto… ma anche per lui credo che uno come me, come noi di campo progressista, come noi di sinistra non vadano bene, a sinistra io non vorrei paletti, è chiaro che però l'unico paletto è quello di un'assunzione di responsabilità e di governo e governare significa anche fare delle scelte difficili, delicate, trovare delle mediazioni alte e nobili e non dei compromessi nobili, non svendere sogni perché poi si ritorgono contro, io noto che spesso mi dicono che non sono in sinistra perché su alcuni temi sono più prudente, ma non sono più prudente perché non vorrei, qualche cosa di più, ma perché tengo conto della realtà, quello che ho detto e dirò anche sabato, ma in tantissimi incontri peraltro molto partecipati e non solo da cento politico, ma da persone veramente che volevano impegnarsi e che ho fatto in questi mesi, la prima cosa che dicevo è il tema dei privilegi, di essere semplice, del linguaggio, di una capacità di rapporto che non sia di rancore anche con chi è il tuo avversario, dall'altra dicevo è fondamentale però che nel momento in cui si fanno delle proposte si verifica anche la fattibilità, perché altrimenti si pigliano in giro i cittadini, anche a costo di apparire che qualcuno possa montare dicendo che non si fa abbastanza, però un conto è il dire, un conto è il fare, quando non è l'opposizione è molto facile dire, però intanto non si fa nulla, quando si vuole cambiare il paese o almeno far fare passi avanti, deve assumere la responsabilità di governo. Governo, intanto si arriva al 2018 secondo lei, a questo punto primario o non primario, 30 aprile, il voto è spostato al prossimo anno? Mi sembra dalle ultime dichiarazioni anche dell'ex Presidente del Consiglio che salvo incidenti di percorso ormai si arriva al 2018. Ed è un bene secondo lei questo? Secondo me è un bene in quanto come auspico, come spero e credo che sia possibile, vengano approvati almeno 3, 4, 5 provvedimenti che sono fermi alla Camera, talvolta approvati già da una delle due Camere e che possono trovare delle maggioranze reali. Quali, esatto? Che cosa vorrebbe vedere approvato? Ne ho alcuni, intanto quel tema della povertà, c'è un provvedimento importante, gli ossessori, perché significa anche dare una risposta a un problema reale e questa è una piccola risposta a un problema molto più ampio, un problema gigantesco su cui bisogna trovare delle risposte, il fine vita, gli italiani ormai da tempo sono favorevoli anche all'elettorale dell'autonasia, il fine vita è qualcosa di diverso, ma almeno su questo, la libertà di scelta, penso al tema del reato alla tortura, il reato di tortura, io ero, dicevo prima stato parlamentare nel 1996 e già si parlava di reato di tortura e siamo ancora qui, sicuramente bisogna fare un reggiamento sul reddito minimo, perché poi si ha qualche cosa del reddito di povertà, ma anche tenendo conto delle compagniabilità rispetto a chi, quindi lì è uno studio. Agli 80 Euro sono serviti a qualcosa secondo lei? Allora, secondo me, secondo me è uno degli elementi sfortunati, gli 80 Euro, io fosse stato in Parlamento avrei votato a favore, perché adesso vengono visti come mangio elettorale, l'obiettivo… Ma se fossi stato al Governo l'avrebbe presentato? No. Vabbè, però sicuramente per fortuna sono al Governo, posso essere libero di dire quel Governo, se la speranza e gli 80 Euro sono stati fatti per tentare di rilanciare le spese e quindi l'economia, sicuramente era una scelta da fare, salvo poi verificarlo e nel momento in cui si verifica che non ha funzionato fare marce indietro, se invece, e io credo e spero che non fosse così, perché poi si dà la responsabilità del Governo, ma è una maggioranza parlamentare che l'ha votata, spesso si dà la responsabilità del Governo, cose che invece sono responsabilità del Parlamento nella sua complessità, anche di quelli che votano contro senza fare proposte alternative e credibili. Quelle 80 Euro se fossero andate appunto spese, non si è calcolato, ma veramente io poi non sono un economista, che forse in quel momento c'era talmente ancora sfiducia, timore per cui quei soldi, quelle somme non sono state spese e quindi aver potuto riprodurre nuove buone economie e sviluppo, ma sono state tenute un cassaforte. E ora questa ipotesi di taglio del cuneo fiscale di cui si sta ragionando per la prossima legge di stabilità è una via giusta? Renzi ieri ha espresso qualche dubbio, anche su questa misura alla quale starebbe pensando il Governo Gentile. Ha espresso dubbio, mi sembra, basando soprattutto sull'esperienza del Governo Prodi, ma anche lì è questo il problema, uno può valutare, io infatti mi sono occupato d'altro nella vita, è un Ministro dell'Economia, però perché è importante il rapporto con i corpi intermedi, di interlocuzioni, di dialogo e di confronto, salvo poi assumersi la responsabilità delle proprie decisioni, perché solo chi è addentro a quei temi, chi vive, chi ha studiato, chi ha approfondito, può poi fare delle previsioni più credibili, la certezza non c'è nessuno, è quello che è mancato, io mi sarei consultato, avrei sentito posizioni diverse, avrei sentito i sindacati, ma anche il Confindustria, sentendo le posizioni e poi proviamo, nel senso che da linea maggioritaria è quella che mi dà più speranza di successo di questa e però puoi essere capaci nel momento in cui ti accorgi che non è andato bene di voltare pagina. Questa mancanza di dialogo anche con i sindacati ha portato ai referendum sul lavoro, per esempio se si terranno, quando si terranno dobbiamo ancora capirlo, il governo vuole intervenire sui voucher, ci sono delle possibilità, delle ipotesi sul piatto, lei se non cambia nulla, come si rapporterà ai referendum, cosa pensa di fare? Intanto io ero contrario all'abolizione dell'articolo 18 e lo dico proprio perché mi è sembrato un po' o qualche cosa che era ideologico, perché nella realtà l'articolo 18 salvaguardava i diritti e non creava nessun problema allo sviluppo economico, al lavoro, anche se talvolta ci sono state vere delle sentenze, ne ho viste alcune, che restituivano il posto, davano il reintegro anche in situazioni di persone che avevano commesso fatti e fatti gravi, però queste sono interpretazioni simili. Sui voucher io credo e spero proprio che ci sia un punto di accordo che chiaramente poi deve portare a una legge, una legge prima della fissazione del referendum e mi sembra che la proposta proprio che è della Cigelle nella loro carta dei diritti è una proposta molto saggia e seria e cioè che i voucher siano limitati ai lavori occasionali, ci sia un maggiore controllo, non solo io direi anche lavori occasionali anche per le piccole aziende, e lì mi sembra che il Ministro Poletti non sia… Sì, ora c'è questa polemica, no? Ah, ecco, ma chi ha una piccola azienda agricola piuttosto ha bisogno poi di lavori che possono durare una settimana, 15 giorni, mi sembra che sia molto più utile per evitare il nero perché non assumerà mai, ecco, quindi io credo e spero che si possa arrivare ad un accordo. Però il sindacato su questo punto fa polemica perché dice che le piccole imprese, le micro imprese sono tantissime in Italia. Sì, ma il problema è dei controlli, il problema è dei controlli, già è stato fatto un passo avanti rispetto alla possibilità di verificare dove vanno a finire, come solito dire. Però lei non è per l'abolizione dei voucher. Allora, io ho l'esperienza di giovane della mia età, allora quei tipi di lavori, non chi abusava dei voucher, quei tipi di lavori venivano pagati in nero e quindi è chiaro che se non si arrivasse all'accordo, la cosa migliore è che faccia il referendum, decidere i cittadini e sulla base del voto poi… i referendum sono una cosa bella quando sono di confronto anche pesante, non solo di politizzazione personale. non so se hai altre domande. Una avremmo d'altra, ma… Eh sì, abbiamo esaurito il nostro tempo, quindi le giro la domanda di Elvira Mirabella. Buongiorno, vorrei sapere come si fa concretamente ad aderire a Campo Progressista, chiede lei. E questo ci dà modo di spiegare che cosa intendete fare sul territorio, ci sono le officine che volete aprire? Sì, per adesso è www.campoimprogressista.info dove c'è per adesso la carta dei valori, perché abbiamo messo solo la carta dei valori, perché vogliamo che invece tutte le questioni programmate e organizzative vengano decise dopo l'incontro di sabato, poi spero di vederla anche sabato chi ha mandato la lettera, perché il programma, l'organizzazione che deve essere proprio più fluida possibile, la conoscenza delle diverse realtà sono fondamentali per poi andare avanti avendo sempre più forza e arrivando, io credo e spero anche, se si dimostra nel giro di due mesi che siamo presenti, siamo proprio genericamente presenti con le nostre realtà in ogni luogo potremmo anche incidere indirettamente sulla nuova legge elettorale facendo capire quanto sarebbe fondamentale una qualità di un nuovo centro, se la faranno, perché non è mica detto, lei è sempre un affezionato al maggioritario, ma mi pare che… Io ero un proporzionalista quando i partiti esistevano, adesso il matarellum è sicuramente la risposta che secondo me in questo momento sarebbe migliore per due motivi, uno perché che permette di decidere chi è il proprio parlamentare, votare il singolo parlamentare e soprattutto per i partiti avrebbero la necessità, per le liste, di presentare delle persone credibili sul territorio, di livello e l'abbiamo visto quando c'è stato… L'altro vantaggio è che dà anche quel livello di presenza alle forze che hanno il 3% che è una presenza parlamentare che è necessaria alla democrazia, quindi scelta del candidato, possibilità di arrivare a una maggioranza capace e in grado di governare, ma anche presenza dei partiti, non quelli assolutamente ininfluenti, ma quelli che almeno hanno il 3% dei consenso. È stata nel frattempo approvata la delega al governo sulla DDL povertà, è arrivato l'ok del Senato mentre noi qui discutevamo, sono stati 138, quindi arriva il reddito di Sì, so che adesso molti diranno è troppo poco, c'è chiaro perché a livello di povertà mi sembra che parliamo di 4 milioni di poveri, però è un piccolo passo avanti su cui appunto una maggiore unità del centro sanitario potrebbe portare a passo avanti molto maggiore. Grazie Giuliano Casabria, buona giornata, a presto!